Dov'è azzurra? Non c'è più! Eccola! Cosa sta? Sono praticamente abbracciati Tutto a posto ragazzi? Tutto a posto? Tutto a posto? Tutto a posto? Sì eh? Sì? No? Sì 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 Guardate che skate park abbiamo costruito Bellissimo eh? Adesso impariamo a fare qualche kick flip Giusto? Questo qua? Sei carico? Sì Più o meno più o meno Io da piccolo lo usavo Ma mi sa che non riesco più a farlo Devi tenere il campione Devi tenere un campione vero? Guardate chi c'è qua Appena svegliata Fresca fresca La Civi Churri Sei carica? Sei carica? Sei carica? Sei carica? Sei carica? Sei carica? È carica per la Fashion Week È carica per la Fashion Week Guardate chi è tornato dalla Puglia ieri Sì È che la sto facendo Alle due di notte Brava Sei bravissimo Ah lo so Siete pronti a vedere tutti i nostri look di questa Milano Fashion Week Lei è un po' distrutta Guardate è un po' K.O Comunque vi lascio qua a sondare Ha pubblicato l'altro giorno Azzurra che ballava con questa cassa è di Faba e ce l'avevano regalata al suo compleanno